Allora ragazzi bentornati su Strange Gaming, questa volta parliamo di Go To Hell, Vai All'Inferno, un gioco veramente terribile per Sinclair Spectrum, per lo specchi, lo spectrum, che ne parlo raramente lo spectrum, però quando si tratta di giochi così strani e così particolari ne devo parlare per forza ragazzi. Allora Go To Hell è un gioco piuttosto infame, nel vero senso della, io spesso uso la parola infame anche impropriamente, però stavolta è veramente infame, perché era uno dei video nestis, cioè dovete sapere che negli anni 80 in Inghilterra, quando i giochi per lo spectrum spopolavano, c'erano alcuni rari giochi che in realtà erano veramente molto controversi e i genitori non volevano assolutamente comprarli ai figli. Questo è uno di quei giochi, Go To Hell, Vai All'Inferno, come vediamo già si vede sangue dappertutto, ghiottine, cappi, accette piene di sangue, e c'è una testa demoniaca, questa specie di demone, questa specie di persona terribile che sta al centro dello schermo, che in realtà, io so chi è, ma ve lo dico dopo, non è l'autore. In basso se vediamo l'autore Jay Jones, che sarebbe John George Jones, che probabilmente è uno pseudonimo, non è il vero nome dell'autore, e il gioco fu pubblicato dall'etichetta Triple Six Triple Six, che anche questa era una, uno pseudonimo, perché in realtà la Triple Triple Six non esisteva, venne creata appositamente dalla Powerhouse, per pubblicare sto gioco, senza avere ripercussioni d'immagine, capito? Perché poi la pubblica sto gioco, sapeva che era controverso, e che avrebbe alzato un polverone, però non voleva compromettere la sua immagine di Software House per bene, la Powerhouse, quindi mi pare che fosse la Powerhouse, fece la sua etichetta Triple Six. Andiamo a vedere, questa è la copertina del gioco, che già è particolare, perché è tutta bianca, con solo la scritta Go to Hell, e sotto le gocce di sangue in rosso, che scendono giù. Questo gioco è un classico labirinto, adesso ci andremo a giocare, ragazzi, un classico gioco a labirinto, per così dire, andiamo a giocarci. Eccoci qui sullo Spectrumino, carichiamo il gioco istantaneamente con l'immagine della cassetta, eccolo qui, per un attimo abbiamo visto la schermata di caricamento, ma il caricamento è fulmineo, con lo Spectrum virtuale, quindi non dobbiamo stare 10 minuti a aspettare che carica il gioco, perché chiaramente lo Spectrum purtroppo erano più lunghi di quelli del 64. Ecco, vediamo il faccione che abbiamo visto prima, ma stavolta non solo è più grosso, anche animato, come vedete, si muove, ok, ogni tanto si muove, e questo faccione qui non è il volto del programmatore, come alcuni pensavano, George George Holtz, che lo vedremo dopo il volto del programmatore, ragazzi, quindi attenzione, dopo lo andremo a vedere, ma questo qui in realtà il programmatore si è respirato a una copertina di un album di Alice Cooper, il famoso musicista americano, rock, faceva... molti lo conoscono, è inutile che vi sto a dire chi era Alice Cooper, e in pratica ha voluto fare rappresentare, diciamo, il signore delle tenebre, il signore del... che poi c'era anche un film di John Carpenter, no? che era il... il signore del male, mi pare si chiamava, il film di Carpenter, dove appunto il demone finale era proprio Alice Cooper, probabilmente l'autore del gioco si è respirato anche al film. Andiamo a giocare, ragazzi, andiamo a giocare, se parte, perché io ho inserito il Campstone Joystick, eccolo qua, si è partito, allora, K, Campstone, vediamo un po', o Rewar o Goodbye, allora, vediamo un po', questo è un gioco particolare, perché è un gioco al labirinto, dove noi facciamo sto dizio che lancia queste croci per sconfiggere i demoni, però è un gioco molto particolare, allora, George Jones, George, John, insomma, quello lì, l'autore, ha fatto, oltre questo, anche un gioco ancora più controverso di questo, che vedremo più avanti, ragazzi, un gioco, quello lì, che vi ho già accennato nel gameplay di Stalag One, Stalag Uno, che c'era il... in quel gioco lì c'era la copertina con le taste mozzate, ragazzi, e di questo ne parleremo, ne parleremo nella prossima puntata di quel gioco lì, che è un po' il seguito di questo, quindi sono un po' correlati i giochi, vediamo, questo è un classico gioco al labirinto, però, rispetto ai giochi al labirinto normali, è più immediato, quindi è anche piuttosto giocabile, non è neanche male, guardate, in basso a destra c'è sta una tomba, ho scritto 1874, e c'è il teschio che entra e esce dalla tomba, terribile, guardate, tutta grafica animata, che per l'epoca non era comune fare un gioco con tutti i fondali animati, anche se la grafica, ok, è molto spartana, perché si tratta sempre di uno spectrum, guardate questo demone alligatore, quanto è fatto bene, è anche molto grande, in alto lì c'abbiamo una bella ghigliottina, ovviamente lo scopo del gioco qual è? Riuscire a raggiungere la fine di questo labirinto immenso, vediamo sotto c'è stato un teschio di zombie che viene, zombesco che viene tritato da una sega con scritto sopra DAI, proprio muori, andiamo avanti, qua c'è un altro zombino di prima, andiamo su, ok, mi pare che non devo toccare i muri, perché se tocco i muri mi cala l'energia, se non erro proviamo, sì, infatti sì, sono quasi morto, perché ho toccato il muro, i numeri non bisogna toccare, come molti giochi dell'epoca bisogna stare tanti a non toccare i pezzi del fondale, altrimenti fa una brutta fine, intanto ammazziamo il ragnaccio, ok, andiamo su, allora un saluto anche al nostro amico ATP, che lui ha aperto una rubrica dedicata esclusivamente ai giochi dello spectrum, che si intitola il piccolino lo specchi, perché in italiano noi diciamo specchi, però in inglese dicono specchi, scritto allo stesso modo però pronunciato in modo diverso, no, 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 sono davanti al muro, mannaggia, come vedete il muro qua, una specie di fiume di sangue, dove si vedono degli occhi che si aprono e si chiudono, una cosa stranissima, qua c'è una specie di recensione ma con delle chiavette che girano, tipo quelle che si utilizzavano negli anni 70 e 80 per aprire le scatolette di tonno, ebbene sì ragazzi, dovete sapere che negli anni 70 e 80, anche prima, anche negli anni 60, le scatolette di tonno venivano vendute con attaccata una chiavetta di metallo, tu sta chiavetta la dovevi mettere in un apposito, come si dice, in un'apposita linguetta di metallo, perché sta chiavetta dentro c'aveva una specie di fessurina, tu mettevi la linguetta della lattina dentro la chiavetta e poi giravi la chiavetta e la confezione di quello che era, si apriva, che poteva essere carne in scatola o tonno o sardine, più che altro, e c'erano proprio le chiavette come quella che abbiamo messo, niente, so a girare a vuoto ragazzi, so a girare veramente a vuoto, so a fa schifo, a fine puntata vi faccio vedere la foto di John George Jones e poi vi dico anche qualcosa sul sequel, che vedremo nella prossima puntata, ma affanculo, mi hanno ammazzato, e devo ricominciare dall'inizio del labirinto, stavolta cambiamo strada, alla copertà a sinistra ci sono anche tipo dei corpi che vengono portati sul rulo trasportatore, quelli blu se li vedete qua a sinistra, qui in basso invece sotto di me c'è stato tipo un diavolo che si inchina col forcone, oh c'era un fantasmone, sono morto così, guardate c'è un occhio, un fantasmone incappucciato, e c'era anche una ghigliottina volata, eccola qua la ghigliottina volata, però andò a sinistra che non ci sono andato, la go to hell ovviamente significa che va all'inferno, e già dal titolo il gioco è molto molto provocatorio, nel senso che questo gioco è stato fatto apposta per provocare, per provocare, per alzare il polverone, però in realtà, guardate la faccia che viene schiacciata dalle punte, è una cosa, tutto il sangue, è una cosa veramente terribile, su Spectrum non sarà mai vista una cosa così terribile, però poi l'autore si sarebbe superato nel seguito di questo gioco, che vedremo nella prossima puntata ragazzi, guardate anche il teschio che viene impiccato, è un altro teschio che parla lì sulla destra, mamma mia sto gioco è veramente maledetto sto gioco, e in pratica l'autore, John George Jones, nell'intervista, che dopo vi farò vedere la pagina dell'intervista, disse che lui sia questo gioco che il seguito, li fece per divertimento personale, cioè questo gioco lo fece per divertimento personale, tipo era tipo sadico lui, ma però è un sadismo tipo adolescenziale, nel senso su tipo quei disegnini che i ragazzini fanno sul diario di scuola, quando si annoiano no, che disegnano le peggio schifezze sul diario, perché si annoiano, quindi alla fine è anche innocuo, come immaginario horror, cioè anche abbastanza innocuo, se andiamo poi a vedere, però nel seguito si è superato, insomma lui ha detto che, poi nel sequel, che il sequel l'ha voluto fare, perché il primo gioco, questo gotuele aveva avuto particolare successo, oh non riesco a trovare la strada, toccacchio devo andare, aveva avuto successo, aveva venduto, e allora la powerhouse gli ha detto, fai il seguito, fai il seguito, e lui ha fatto il seguito, e la prima cosa che fece nel seguito, è prendere il faccione appunto di, Alice Cooper, che aveva già disegnato per questo gioco, l'ha modificato, e l'ha reso ancora più horror, più terribile, che forse sa anche rappresentare, il fatto di quando tu finisci il primo gioco, e ammazzi con le croci, il re dell'inferno, e poi lui nel sequel torna, però è tutto rovinato, tutto distrutto, tutto, ah guardate, qua sotto c'è una di quelle, torture del, medievali, che praticamente stirano la persona, no, cioè legano, la persona a un tavolaccio, e poi girando con le corde, lo allungano, in realtà qua, la persona davvero si è allungata, vedete, si è allungato davvero, ok, mi sapevo stare qua sotto, me andavo avanti, provo un po', e poi nel sequel c'è anche una sorpresa, perché allegarono una canzone, poi ve lo spiego, c'è anche una canzone allegata, ve la farò sentire un pezzo, insomma questo è un gioco, che come vedete, punta sulla controversia, e ci riusciva, perché in quell'epoca lì, quando i giochi erano tutti, dedicati a, praticamente quasi esclusivamente a bambini, un gioco così, che diciamo, è immaturo un gioco del genere, non è un gioco particolarmente, però addestava la curiosità di tutti, sia di quel, dei ragazzini, che diceva, guarda sto gioco, tutti i teschi, il sangue, e cose, sia degli adulti, che dicevano, no, ma guarda che schifo del gioco, e bambini, non possiamo dare un gioco così, e ovviamente, il risultato qual è? Tanta pubblicità, e tante vendite, ovviamente, no, è facile, avere successo così, ok, però è un gioco particolare, che comunque è rimasto nella memoria, perché puntava a scioccare, no, è un gioco comunque scioccante, però, nulla a confronto del seguito, che vedremo nella prossima puntata, di Strange Gaming, e che, è molto più tele, guarda gli occhi del demonio, questi sono gli occhi di Sauron, praticamente, doppi, no, no, guarda la tomba che gira, spinning grave, proprio, quando uno si gira nella tomba, guardate, guardate, poi ci sta pure il, ah, mannaggia, la sozza, è pieno di nemici qua, sai che faccio, io me ne vado, ciao, se siamo visti, ciao, 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 che c'è, comunque, il modo, vado giù, comunque, il modo in cui gli occhi sono animati, è piuttosto ingegnoso, vedete, perché si, aggiorna, dall'alto verso il basso, abbastanza ingegnosa, sta cosa, un'altra croce, e poi le croce, mi pare che se ci vado sopra, mi ridano l'energia, eh, non vorrei dire una cacchiata, ma mi pare che fosse così, poi ovviamente, c'è anche, si soggenerano i giochi qui al labirinto, che andavano per la maggiore all'epoca, in pratica, richiedevano al giocatore, che volesse veramente impegnarsi nel gioco, e finirlo, invece di andare a caso, come sto a fare io, di proprio segnarsi sul quadernetto una mappa, oppure magari di giocare in compagnia, due amichetti, immaginate, uno col joystick, che provava a sopravvivere e andare avanti, l'altro col quadernino a quadretti, che, porca puttana, col quadernino a quadretti, che si segnava, ho finito, che si segnava tutte le ma, tutta la mappa, tutta la roba, adesso andiamo a vedere un pezzetto, dell'intervista con l'autore, vi faccio anche vedere in faccia l'autore, così vedete che razza di psicopatico era, ok, questo è l'autore, John George Jones, lo vediamo, in un'intervista dell'epoca, su una rivista dell'epoca, che mi pare fosse Crash, la rivista dello Spectrum, mi pare, non mi ricordo che rivista era, questa è quella della rivista, è Sinclair User, che è una rivista dello Spectrum, dell'epoca, come dire, se c'è stato un programmatore controverso, negli anni passati, puoi scommettersi, che è l'autore di Go to Hell, e dell'altro gioco, vi farò vedere nella prossima puntata, Soft and Caddly, tra poco vi farò vedere anche la copertina, della Powerhouse, maniacalmente, egoisticamente, psicotico, oppure, un tizio molto tranquillo, leggete, e decidete da voi, in pratica, qua, dall'intervista, si evince, che lui era semplicemente, una persona tranquillissima, solo che, diciamo, per goliardia, oppure, per, per fare un po' di scalpore, creò questo gioco, ok, comunque, lui ci teneva, a far vedere, che era un po' fuori di testa, infatti, anche la foto lo testimonia, questo qui era un po' fuori di testa, io penso che comunque, il suo nome fosse uno pseudonimo, John George Jones, andiamo avanti, vi faccio vedere, questa è la copertina del gioco, che vi presenterò, nel prossimo episodio, Soft and Caddly, che è il seguito ufficiale, di, Go to Hell, fatto dallo stesso autore, ancora più truculento, ancora più terribile, ragazzi, ci sono delle immagini, veramente quasi insostenibili, in questo gioco, ve lo dico subito, e c'è anche una traccia audio, come vedete, leggete in alto a sinistra, allegata, che ascolteremo anche, nel prossimo episodio, di Strange Gaming, ciao ragazzi, alla prossima!